E' bello poter quest'anno ripetere più volte che il nostro sistema sanitario compie 40 anni perché c'è una generazione che non sa che prima di questo sistema non c'era l'universalità nell'accesso ai servizi e non c'era là dove è possibile una vera uguaglianza tra i cittadini. Ci sono molte lacune in 40 anni anche a causa dei costi sono avvenuti dei tagli. La sanità del futuro è la digitalizzazione, curare soprattutto le cronicità, dare farmaci anche costosi ma che guariscono non che cronicizzano. Quindi abbiamo molto da fare ma soprattutto abbiamo bisogno che gli italiani facciano il tifo per il nostro sistema sanitario. Senza questo sistema gli italiani sarebbero più poveri e più fragili tranne quelli che hanno una loro capienza personale in termini di reddito e di cultura.